pressione in calo sulle baleari con flusso sostenuto di correnti sciroccali sul martirene sul mar ligure nelle prossime ore poche variazioni mentre da lunedì la pressione attesa in aumento sul mediterraneo centrale in toscana domenica 17 abrile parzialmente nuvoloso con locali deboli piogge sparse più probabili sulle colline metallifere sui rilievi di nord ovest venti moderati di scirocco ma rimossi temperature in ulteriore lieve aumento sul territorio provinciale da nuvoloso a poco nuvoloso parzialmente velato possibili deboli piogge sui rilievi della valle del serchio a lucche sulla piana minima 13 massima 24 gradi in versilia sul litorale minima 14 massima 17 in garfagnane zone montane minima 12 massima 22 gradi lunedì da nuvoloso a poco nuvoloso con temperature in lieve calo